Ed ora un'altra grande certezza del panorama musicale, è sempre un grande piacere ascoltare la sua voce e le sue interpretazioni. Mario Vettese con l'emozione non a voce. Un bel tributo ad Adriano Celentano. Mario Vettese! Mario Vettese con l'emozione. 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 Prendo un fuoco facilmente. Mario Vettese con l'emozione. Prendo un fuoco facilmente. Mario Vettese con l'emozione. Prendo un fuoco facilmente. 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 Prendo un fuoco facilmente.